Ciao, concediti qualche minuto e guarda fino alla fine questo video, perché oggi voglio parlarti di cosa può fare per te l'educatore professionale in questo periodo storico così delicato. Ciao, io sono Giussi, sono un'educatrice professionale e oggi sono qui perché voglio parlarvi di cosa può fare per voi l'educatore professionale anche online. Siamo in un momento storico veramente unico, delicato e molto complesso. Nella mia attività professionale ma anche nella mia vita quotidiana personale vedo intorno a me tantissima sofferenza, tantissima ansia, tantissimo stress e tantissima vulnerabilità emotiva. Non posso quindi fare a meno di chiedermi cosa posso fare io, l'educatore professionale, per queste persone e per questi bisogni. Questa sofferenza emotiva la vedo a livello sia individuale che a livello collettivo, in particolare nelle categorie più fragili come i bambini, i preadolescenti, gli adolescenti e gli anziani. L'educatore professionale rispetto a queste categorie può fare molto perché l'educatore professionale è l'esperto della relazione d'aiuto ed è l'esperto della riabilitazione. Nella mia attività professionale di tutti i giorni vedo gli anziani, vedo gli anziani e vedo un peggioramento generale di chi aveva già una demenza, un problema cognitivo ma anche di un anziano che prima aveva una vita pressoché normale, piena, attiva perché si è visto e tolto tantissimi dei propri interessi, delle proprie attività. Quindi queste persone trovandosi costrette a stare chiuse in casa si sentono piano piano spegnere un pochino, spegnere sia a livello cognitivo quindi di proprio funzioni cognitive, di abilità, di memoria, di attenzione, di linguaggio ma anche a livello di umore, di attivazione, di voglia di fare. E chi invece aveva già una demenza, un declino cognitivo, questa chiusura l'ha ulteriormente peggiorato. Ma come fare a chiedere aiuto a un professionista in questo momento in cui ci viene chiesto di stare in casa e non di girare troppo nelle strutture, negli uffici, negli ambulatori? Si sta sviluppando a livello sanitario, a livello delle professioni d'aiuto e quindi anche rispetto agli educatori professionali la telemedicina. E che cos'è? E' praticamente entrare in contatto con il professionista online attraverso un pc con una connessione internet ma a volte basta un tablet o anche un cellulare in modo da riuscire a entrare in relazione e guardandosi in faccia. Anche perché vi dico che spesso trovo più utile, più fattibile, più efficace una relazione attraverso un video in cui ci si guarda in faccia senza mascherina che una relazione magari nella stessa stanza ma coperti da occhiali, mascherina, visiera perché aiuta tantissimo soprattutto nella mia professione che è una professione d'aiuto la relazione, l'empatia, la connessione. In questo video quindi parlerò di come l'educatore professionale, può essere d'aiuto in varie fasi della vita ma prima di addentrarci nello specifico vi chiedo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e di lasciare un like perché mi rendereste molto molto felice, aiutereste il mio canale a crescere e me a diffondere il mio messaggio. L'educatore professionale può essere di aiuto già nella fase dell'infanzia, nell'età prescolare e scolare, come? Come supporto genitoriale quindi aiutare i genitori ad accogliere, a riconoscere, a validare le difficoltà dei bambini in questo periodo e a sviluppare, rinforzare le loro risorse naturali aiutandoli poi a trovare una nuova dimensione quotidiana per questi bambini che si trovano a dover proprio riadattare la propria vita e i propri bisogni. Quindi l'educatore professionale può essere d'aiuto sia al bambino sia al genitore che deve occuparsi di questo bambino. Andando avanti con le fasi della vita l'educatore professionale può essere anche di supporto nella fase preadolescenziale e adolescenziale. Anche qui troviamo in questo momento una grande sofferenza emotiva, un grande disagio, perché viene chiesto a queste persone che spontaneamente sono in una fase della loro vita in cui sono completamente aperti all'esterno, hanno voglia di esplorare il mondo esterno, di conoscere, di avere esperienza all'esterno. Invece la società gli sta chiedendo di stare chiusi, di stare ritirati, di limitare le proprie relazioni interpersonali che in questo momento sono la loro linfa vitale. Quindi c'è una sofferenza sia a livello di preadolescenti che ad adolescenti, ma anche per i genitori che li devono gestire, che sono combattuti tra questo bisogno e questa voglia dei ragazzi, ma dall'altra parte devono tutelarne la sicurezza e la salute. Quindi l'educatore professionale può essere molto di aiuto in queste fasi per gestire lo stress, la sofferenza, le ansie, le difficoltà relazionali di questi ragazzi e perché no dare anche qualche spunto sulle metodologie di studio, sulle tecniche di studio, rispetto a questa nuova didattica a distanza che spesso li mette in difficoltà. Andando avanti ancora con la linea della vita, l'educatore professionale può essere di aiuto e di supporto all'adulto e all'anziano, perché come ho detto fino adesso, adesso non voglio ripetermi troppo, però siamo in un momento storico veramente di incertezza, di stress, di ansia e di vulnerabilità emotiva. Ci sentiamo proprio tutti disorientati, le certezze che l'adulto di oggi, venendo da altri momenti storici, si è costruito rispetto alle relazioni, rispetto al lavoro, rispetto alla casa, rispetto anche alla salute, sono veramente importanti e mettono anche l'adulto in una sorta di difficoltà e di vulnerabilità, di fragilità. Quindi l'educatore può essere veramente di aiuto per fare una bc dell'emozione, imparare a gestire lo stress, migliorare le nostre abilità di efficacia interpersonale, sviluppare o migliorare le nostre strategie di gestione dell'ansia. Come ho detto all'inizio del video, una delle categorie che sta soffrendo di più sono le persone con un iniziale declino cognitivo o con una demenza, perché sono proprio le persone che più avevano bisogno di stimoli esterni, di fare attività, di uscire, di muoversi fisicamente e questa chiusura veramente ha dato una spinta negativa a questo declino cognitivo. generale, proprio lo vedo a livello individuale, ma anche collettivo. Quindi quello che l'educatore professionale può fare online per queste persone è la stimolazione cognitiva, quindi impostare un programma strutturato di attività, di esercizi che vanno a stimolare le diverse funzioni cognitive. Questo sia nelle persone con demenza o declino cognitivo, ma anche con le persone anziane che vogliono prevenire e tutelare le proprie funzioni cognitive e mantenerle allenate, fresche, in previsione poi di poter riuscire a riutilizzarle. Un altro importantissimo aiuto che l'educatore professionale online può dare è quello di un supporto ai familiari, care givers che si occupano di persone malate o con demenza, perché in questo momento la sanità è in emergenza, le visite mediche sono ridotte, alcuni servizi hanno proprio chiuso, come i centri di urni territoriali, le misure domiciliari di supporto alle famiglie e quindi alcuni possono sentirsi abbandonati dal territorio da servizi. Quindi l'educatore online può dare questo tipo di supporto e fare anche della psicoeducazione rispetto ai familiari o alle persone, ai volontari, agli assistenti, alle badanti che si occupano dei pazienti con fragilità. Bene, ho cercato di riassumere il ruolo dell'educatore professionale anche online, in questo momento storico così delicato. Spero di non aver dimenticato nulla, ma l'educatore professionale è l'esperto della relazione d'aiuto, una professionalità veramente flessibile e versatile. Può lavorare in moltissimi servizi e in moltissime aree e fasi della vita. Spero di averti aiutato a chiarire un attimino il tuo punto di vista. Ti invito, se hai bisogno, a chiedere aiuto all'educatore professionale. Se vuoi saperne di più e hai delle domande, puoi lasciarle nei commenti oppure qui sotto nella descrizione ti lascio i miei contatti in modo che possiate contattarmi per qualsiasi dubbio, domanda o perplessità. Intanto vi saluto e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Buona giornata! Grazie a tutti!